No, per il Dio in Giappone non c'è, forse quello mi mancherà se torno in Giappone Sì, qua so già che il mio punto va a Giappone, senza bra di dubbio Sì, anch'io Giappone, meglio C'è qualcosa che non ti piace della cucina italiana? Etonee, liquirizia Ah, l'avevo sentita in uno dei tuoi video Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video con... Enicottero, yeee E abbiamo detto, in tanti di voi ci avete chiesto, ma è più bella l'Italia, è più bella il Giappone? E in realtà ne avevo già parlato, ma ho deciso di parlarne con una giapponese Perché mi sembra meglio, perché lei è una giapponese che ha vissuto in Italia per dieci anni Io sono un italiano che ha vissuto in Italia, in Giappone Per, anche io quasi una decina d'anni, quindi ho detto, siamo le persone giuste per fare questo video Bene Allora, finisce così, ciao Perché non sappiamo da dove raccontare Da dove iniziare Iniziamo con la bellezza magari del paese, che cos'è più bello Cioè, sinceramente non c'è, non lo so Allora, diciamo che l'Italia, secondo me, ha più palazzi antichi Giusto? C'è più, forse c'è più, però anche il Giappone c'è tanta storia, cioè, quindi è diverso Sì, diverso, quindi per me vedere la città in Italia, oh tutto diverso, è tutto bello Invece in Giappone io non mi affascinavo così tanto, anche se ci sono tempi Passavo davanti, ignoravo completamente Però adesso che sono uscita da Giappone e quando torno in Giappone Ma siamo praticamente la stessa persona, perché stessa cosa io quando vedevo le chiese qua Non mi chiedeva Non mi chiedeva niente Adesso torno perché ho portato un sacco di giapponesi in Italia, li porto a Firenze e dicono Oh mio Dio Sì, è la stessa cosa proprio uguale E io in Giappone c'è, ovviamente, mi affascina tutto, cioè, se vai, insomma, c'è dei tempi bellissimi, dei santuari bellissimi Però la stessa cosa in Italia, ovviamente sono due cose belle, è che se ti abitui troppo a una cosa Perde, non è che perde il suo valore, ma non te ne rendi più conto Esatto, sì, sì Infatti, questa è una delle cose che mi piace vivere comunque in Giappone e tornare in Italia Perché proprio riesco a prezzare di più quello che ho Perché se non me ne fossi mai andato non mi sarei mai accorto magari di quanto è bella l'Italia Numero due, il cibo Cibo, amore, in Italia, io amo il cibo italiano Devo dire, anche il mio amico giapponese, anche altri amici giapponesi che lo spivano in Italia Mi hanno detto che hanno vissuto prima in America, in America gli mancava tantissimo il cibo giapponese Qua in Italia hanno detto che comunque... Mi dà soddisfazione, quindi, cioè, è vero che a volte voglio mangiare cibi giapponesi Sì, però in Italia si mangia bene, quindi io posso vivere in Italia Perché senza riso Poi è una cosa che mi piace nell'Italia è fare l'aperitivo Anche qua fa l'aperitivo L'aperitivo è bellissimo E poi c'è 8 euro, 6 euro e posso prendere tutto quello che voglio Osaka Jinnina No, l'aperitivo in Giappone non c'è, forse quello mi mancherà se torno in Giappone Sì, perché l'aperitivo a me piace tantissimo Poi in estate c'è la luce fino alle 9-10 di sera Invece in Giappone diventa subito buio, anche se in estate Quindi fare aperitivo soprattutto in estate sembra il pomeriggio lunghissimo E la cena più tardi, però per me è più, come si dice, rilassata Sì, sì, sì No, invece a me piace che diventa sera presto Ma vero, perché? Non lo so Perché però la mattina anche Perché il problema è l'inverno Perché qua alle 7-8 è ancora notte qui adesso che è inverno Invece in Giappone alle 7-9 Il sole, la terra nel sollevante Il sole sono già le 5 in alcuni posti Nei giorni più lunghi E vabbè, no, il cibo devo dire che mi mancano delle cose del Giappone Per esempio mi piacerebbe avere il natto qua Che non c'è, ti giuro Ti piace? Nattosuki Anche a me È una di quelle cose che non riesco Cioè, ci sono dei posti che c'è però Il punto è che, ok, ti serve il natto ma ti serve la nori Che deve essere quella croccante Ti serve il riso, poi in un certo modo Quindi mi servono troppe cose Nattosuki, nattosuki Però devo dire che quando sono in Italia Cerco di mangiare cibo italiano Quando sono in Giappone è cibo giapponese E quindi vedo di non farmi mancare niente Perché è difficile C'è qualche cibo che non ti piace? Cibo giapponese? Cibo giapponese che non mi piace A me non piace tanto il Agetato Agetofu? Agetofu? Oh, sì, è così Tofu? Tofu è molto Agetato è molto piace Sì, è molto fritto Cosa altro non mi piace? Areba? A me non mi piace Il fegato non mi piace Ma neanche in Italia Anche in Italia c'è non mi piace C'è qualcosa che non ti piace alla cibo italiana? E non è liquirizia Ah L'avevo sentito in uno dei tuoi video Tutti i giapponesi odiano la liquirizia Perché non esiste questo sapore in Giappone? Magari forse mi abito E dopo mi piace tantissimo Ma all'inizio proprio Non ho mai sentito questo sapore Che cos'è? Sembra medicina Eh, la liquirizia Anche un mio amico giapponese Sai invece Tanti miei amici italiani Non piace la shabu shabu Perché? Eh, non mi piace Non mi piace Non mi piace Sì, sì Perché tanti giapponesi Tanti italiani Che sono venuti a trovarmi Tra cui anche la mix bene i DNR Sono venuti e non gli era piaciuta tantissimo la nabe Perché dicevano che era un po' carne La carne fatta Nella pentola Però un po' insapore Beh, il yakiniko Perché il yakiniko Perché la carne al barbecue Però, non lo so Giunga dashi kekoskide Sì Yuzu Yuzu, oishi Ma non è un problema Il cibo devo dire che sia il Giappone che l'Italia Io direi che anche qui pari Sì, sì Poi diciamo Vediamo le persone Che cosa c'è di diverso Numero tre persone Persone, tre persone O relazioni, relazioni Siamo diversi Molto diversi Io devo dire Già tipo contatto fisico Che in Giappone Come sapete Che non facciamo Anche così Di solito non facciamo E qui Baci no Niente Quindi anche quando parliamo Già questa distanza Forse per una giapponese normale È già troppo vicino Sì Dobbiamo essere così Però noi ci conosciamo Sì, sì Quindi la stashikunate Va bene Cioè se devi conoscere Però se sei una persona Che magari la prima volta che incontri È difficile proprio Sì, sì Instaurare un legame Però Quindi a me piace infatti Perché in Italia Non è che facciamo proprio L'amicizia subito Però parliamo subito Cioè si aprono subito Quindi è per me È più facile Comunicare Invece ai giapponesi Magari Anche se tra i giapponesi Io voglio chiedere Un'informazione Ma lui mi risponde Proprio Solo dice una frase Ma non mi guarda neanche A volte ci sono queste persone strane Che dice così Cioè Non sai comunicare Invece in Italia È più facile Anche con le persone sconosciute E diventiamo subito amici Però una cosa che in Giappone Non succede Succede in Italia In Italia Perché le informazioni Anche se non le sanno Te le danno anche sbagliate In Giappone Non te le danno Anche se sono quasi sicuri Al 90% Per non darti delle informazioni Sbagliate Dico non lo so Ah è vero Questa è una cosa Molto diversa Piuttosto ti accompagnano Addio ti le avete Piuttosto che non darti delle informazioni Sbagliata Sì 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 Giapponesi Sì 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 A dormire per strada Sì Ecco lo succede Cioè in Giappone è abbastanza normale Cioè vedi Sì Vedi di sera Sì 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 Ci sono impiegati Che dormono per terra Cioè non è così strano No vabbè ovviamente Magari non in aerei più rurali Però proprio a Tokyo Nelle grandi città Sicuramente Succede Però in Italia non ho mai visto Un ubriaco così Che è perso proprio Vabbè Quindi qui a chi diamo il punto Mmh Ma non c'è Ma anche qui non c'è Un migliore Siamo diversi È talmente diverso Che Perché comunque cioè Non è che il fatto Che siano più riservati Sia un problema Sono più riservati Ok Gli italiani sono più espansivi Però Gli italiani sono più Come dire Invasivi Cioè Sono più Anche un po' No Più Diretti Però in tanto Troppo diverti E franchi I giapponesi Ci hanno più tatto per le cose E ci hanno più rispetto Un po' Per la situazione Quindi diciamo che Sono due culture molto diverse E sono due Sensazioni diverse Se ti comporti in Italia Da italiano Va benissimo Meglio Perché se no È difficile fare amicizie In Italia Se ti comporti da giapponese Perché sei troppo timido Se in Giappone Invece ti comporti da italiano Farei comunque Difficoltà ad avere amicizie Perché la gente dirà Che sei troppo Too much Non lo so Sei troppo Sei troppo Sei troppo Sì Insomma Non va bene Perché ti devi adeguare Non segui le regole Quattro Servizi Servizi Sì Per qua So già che il mio punto Va a Giappone Senso bra di dubbio Sì anch'io In Giappone Meglio Perché puntuali Organizzati meglio Invece in Italia Spesso non funziona Spesso devo aspettare Ore e ore Poi Poi sai cosa Anche una cosa Che non mi piace Che spesso magari Gli impiegati che lavorano Che ne so Le poste in banca E ho trovato Devo dire Delle persone gentilissime Proprio devo dire Ho avuto fortunissima Però spesso capita Che c'è magari Quella arrabbiata Che lavora Sì In Giappone Anche se uno arrabbiato Ti sorride E alla fine Boh L'importante è che non ti arrabbi te Perché Se una cosa non si può fare In quel momento In quel determinato modo Per esempio Non lo so Vai a portare tutti i documenti Per fare il visto Vai fino a Shinagawa Sai dov'è? Shinagawa È lontanissimo Ai 20 minuti Dalla stazione Shinagawa Devi prendere un bus Non so Arrivi là Magari che ti sei fatto Due ore di viaggio Per arrivare Non c'hai tutti i documenti E ti vuoi devi tornare Non ti arrabbiare Perché funziona così E se ti arrabbi È peggio Cioè Non risolvi niente Vabbè Capisci che le cose Vanno così E io ti dico Sono più tranquilla in Giappone Perché almeno so Che se faccio le cose Secondo le regole A posto Se non hai fatto Secondo le regole Mi adeguo E bom Qua in Italia Invece puoi fare anche Le cose secondo le regole Però magari Alla pausa pranzo Cioè che cose Non lo so Magari sta per finire il tempo Per esempio In Giappone Se è tipo un negozio Fino alle 12 Aperto Tu puoi fare la spesa Fino alle 12 Qua magari Ci sono pochi clienti Lo chiudono anche prima A me è capitato L'altro giorno Di andare alla coppia Erano le 7 Meno 20 Chiudeva le 7 Non potevo entrare E dico Ma perché? Poi a volte In Italia è successo Che mi ha dato Un po' meno Il resto Ah si? Si Però una volta Mi ha dato un po' di più Quindi è sempre così Cioè lui Sempre calcola Se tipo Non so Deve darmi 5 e 24 Allora mi da solo 5 5 e 20 Però se deve darmi 5 e 26 Allora mi da 5 e 30 Tipo così Quindi Cioè in Giappone Non succede mai Questa cosa A parte che lo fanno Quasi tutto Con le macchine Adesso No I supermercati C'è la macchina Che da il resto Cioè quindi ho capito Che non perché Lui non vuole darmi Cioè Non è che lui voleva Fregarmi Ma solo per la comodità Mi da un po' meno A volte Mi da un po' di più A volte Arrotondano Arrotondano Ma diciamo che Sì Sono diversi Bisogna un po' Adeguare 5 Cosa c'è di 5 Lavoro? Lavoro Ma io in realtà Non ho mai lavorato Come impiegata Come lavoro fisso In Giappone Quindi non so veramente Però tanti miei amici giapponesi Vedo che stanno facendo tanta fatica Cioè nel senso le ore Tipo miei amici hanno detto Che 16 ore al giorno Lavorano Insegnanti Stanno facendo 16 ore? Sì 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 Perché fanno bukatsu Ah bukatsu Ah ok Quindi devi andare a saran Training anche dalla mattina presto Ah quindi 16 ore da quando prendono il treno A quando rimano a casa No no da quando sono a scuola Sì 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 Oddio Perché rimangono Poi magari finiscono Fare Non so Karta Così quindi 16 ore al giorno Ha detto quindi Ma bisogna dire che comunque c'è Però lo metti in conto Cioè tu sai già che comunque Fa lavorare in Giappone come impiegato Come che comunque l'impiegato funziona così In Giappone è molto premiato la lunghezza di quanto lavori Cioè tu devi uscire dal posto di lavoro dopo che è uscito il tuo capo Cioè quella proprio standard In Italia viene più premiata forse la qualità del lavoro Sì Meglio Secondo me è meglio Questo secondo me Questo sì Perché comunque cioè alla fine uno può stare là seduto Non a non fare niente però quasi Perché poi se guardi Analizzi i numeri della produttività Il Giappone non è il più alto Infatti stanno lavorando inutilemente ore e ore e ore E poi tra l'altro spesso un'altra cosa che Odio del lavoro in Giappone Io ho fatto il modello quindi non è che è un po' diverso Però le nomi kai Cioè o i viaggi dell'azienda Forse c'è una crisi Mamma bisogna andare a giocare a golf Bisogna per esempio c'era un mio amico che lavorava in banca Doveva i primi due anni ha dovuto dormire nel dormitorio della banca Cioè E non poteva portare ragazze nella stanza Se la porti uno che ha portato una tipa L'hanno licenziato Eh che no Non c'è privato la vita No Eh ma perché comunque se quel lavoro non è lavorare tipo come staff della banca Proprio nella gestione Un po' Han Zawanoki L'hai visto? Sì sì Eh praticamente quindi è molto Cioè se sei sposato ti trova la casa Sì Se invece hai solo la fidanzata Non è ancora ufficiale quindi E anche se tu vivi lì e in più ti trovi in un'altra casa non puoi Devi dormire lì Proprio è così Quindi diciamo che quello si è molto E dover andare alle cene di lavoro non ti puoi praticamente rifiutare Vabbè quindi qua un po' è un po' Sodane Poi vabbè e altro? La cosa che odio del Giappone è Ok capisco che i giapponesi tra i giapponesi non possono dare fastidio agli altri Come educazione ok capisco Però è troppo a volte troppo esagerato Per esempio a Tokyo che c'è un sacco di gente sempre alla stazione E appena mi fermo perché non so voglio mettere qualcosa nella borsa o prendere qualcosa Appena mi fermo quello che c'è dietro mi fa così Però sta utile o non è? Ma 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 sta utile o non è? Ho capito un attimo eh Sì un attimo Però cioè veramente appena mi fermo nella strada e poi l'altra gente sta camminando Allora io do fastidio agli altri quindi si arrabbiano Eh sì Oppure se tipo non lo so magari ti camminano vicino e ti urtano non si scusano Perché? Perché non si scusano? Perché devi capire che in quel contesto c'è tanta gente normale che ti urto Quindi non mi devo scusare Però scusa Sì poi spesso fanno anche soprattutto le signore giapponesi Si fanno io più davanti Osakamobasani poi Sì sì Praticamente vedi che si aprono le porte e ci sono queste due signore anziane che magari Corrono per prendersi il posto poi quella che si siede fa finta di dormire e l'altra invece sta incazzata in piedi Sono 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 Ma allora anche se non ti sei lì per un secondo cosa cambia? Cioè alla fine i giapponesi spesso sono gentili perché se tu chiedi informazione ti aiuta Oppure se non sa allora ti dice mi dispiace non lo so Però in quel senso appena io do fastidio agli altri si incazzano Non mi piace questa cosa E vabbè comunque queste erano un po' le differenze tra l'Italia e il Giappone Quindi cioè alla fine ci può stare bene secondo me in tutti i due paesi Sia siete degli stranieri sia che se siete degli italiani L'importante è Eh? Eh? Adeguarsi 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 C'è un'etichetta da seguire in Giappone C'è un modo per comportarsi in Italia Se voi capite insomma come funzionano Come funzionano le cose in Giappone e come funzionano in Italia Secondo me si può vivere bene in tutti e due i posti Se siete in Italia imparate italiano Se siete in Giappone imparate giapponese Bene Ok Arigato Spero che il video vi sia piaciuto Passate anche dal canale di Ericottero Ericottero Ciao Bye bye Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Shoebostiano Sera fini nei maggiori digital store